tra le tante cose che ci ha detto l'inter benfica 1 a 0 che abbiamo visto qualche ora fa secondo me due risposte sono molto importanti la prima riguarda la fase difensiva partita dove l'inter ha stradominato ed è arrivata ad un certo punto soprattutto nella ripresa in cui rischiava in qualche modo vista la grande volontà di trovare il gol di essere un pochino scoperta in contropiede di farsi trovare appunto impreparata su alcune ripartenze visto che peraltro il benfica è anche una squadra con tanti giocatori di qualità che sono abili anche in ripartenza e quindi l'inter rischiava come purtroppo più volte ha fatto l'anno scorso di subire gol e di vanificare tutti i tentativi invece di segnarlo in realtà l'inter benfica ci ha detto che le impressioni e anche i numeri che l'inter ha accumulato in queste prime partite tra campionato e champions league confermano che la difesa quest'anno fino ad ora ha funzionato perfettamente tanti clean sheet l'ultimo dei quali proprio contro il benfica pochi gol subiti e aggiungerei anche poche partite in cui il fatto di non aver subito gol viene individuato principalmente nei meriti del portiere è vero che sommer ha fatto tante buone parate in alcune gare magari ne ha fatta una sola però è stata una parata decisiva però non mi pare che sia accaduto così spesso che in queste prime partite nel commentare all'inter noi abbiamo detto ok non abbiamo subito gol ma non l'abbiamo fatto perché sommer ha fatto 3-4 miracoli non è successo praticamente mai e questa è una buonissima notizia la seconda notizia che ci ha dato ed è l'argomento di questo contenuto quindi ben ritrovate e ben ritrovati amiche amici passioni interisti riguarda la fase offensiva l'inter ha chiuso vincendo solo 1-0 ed è un risultato strettissimo per quello che si è visto in campo è un risultato che però non deve andare perlomeno secondo la mia opinione a ridimensionare eccessivamente la prestazione in particolare dei due attaccanti quindi Lautaro Martinez e Marcus Turam Turam ha fatto gol ha avuto giusto un paio di occasioni Lautaro al contrario ha avuto credo 5-6 occasioni veramente lampanti e il gol non l'ho trovato un po' per sua imprecisione un po' per sfortuna in riferimento in particolare al palo e alla traversa colpiti e un po' anche per una gran prova al contrario di Anatoly Trubin che ha fatto veramente tante belle parate la riflessione che volevo portarvi oggi sull'attacco dell'Inter si ricollega ad una notizia che in queste ore è circolata a partire dalla Spagna ma che in realtà ricordo anche alla fine diciamo nelle ore successive alla chiusura della sessione estiva di calciomercato qualcuno già stava cominciando a riparlare di questa cosa dalla Spagna il portale Sport ha rilanciato l'ipotesi che dopo un corteggiamento durato diverse settimane l'Inter possa tornare all'assalto di Meditaremi attaccante del Porto che come sappiamo va in scadenza di contratto a giugno 2024 e il secondo sport appunto l'Inter potrebbe valutare visto l'infortunio di Arnautovic e visto un reparto offensivo con delle lacune potrebbe valutare un'offerta nel mese di gennaio per strapparlo al Porto fare in modo che il Porto eviti di perdere la parametro zero quindi magari sia anche un po' più orientato ad accettare un'offerta anche se non altissima e coprirsi le spalle in vista di una seconda parte di stagione dove se tutto va come deve andare l'Inter sarà ancora in corsa per lo scudetto e speriamo anche per un buon risultato in Champions League allora faccio un passo indietro rispetto a questa ipotesi intanto per chi ci segue almeno dall'estate quindi da veramente pochi mesi sa benissimo la mia opinione su Meditaremi un giocatore che a me piace tantissimo e quando si parlava in estate di un Inter che potesse scegliere fra Taremi Morata, Baloghan, Scamacca e tutti gli altri nomi ad eccezione di Lukaku anche se a lungo Taremi era stato molto in secondo piano quasi citato giusto per più di una volta io dicevo io andrei su Taremi al di là poi del costo che chiaramente era un fattore da considerare però dal punto di vista tecnico io avrei spinto con forza su Taremi il reparto offensivo dell'Inter alla fine come ben sappiamo si è concluso con in panchina Arnautovic e Sanchez due giocatori che sono tecnicamente validi secondo me sono tecnicamente anche da Inter pur con un'età non più giovanissima ma anche in virtù di questa età appunto ormai avanzata sono anche soggetti ad infortuni e purtroppo Arnautovic ce l'ha fatto vedere subito con un problema anche piuttosto serio che ha accusato nella gara contro l'Empoli nei giorni successivi a quella partita io avevo detto attenzione perché se l'Inter sceglie di assumersi il rischio di avere come riserve due giocatori così meno solidi di quanto si dovrebbe non uno solo ma tutti e due con delle lacune quello che mi viene da pensare e che tra virgolette pretendo anche tra virgolette è che si sia anche preparato il terreno ci si sia coperti le spalle a livello di strategia rispetto alla possibilità effettivamente concreta che ci si ritrovi o senza uno dei due o addirittura senza entrambi quindi quando eravamo qui a parlare di come sostituire Arnautovic del fatto che magari Inzaghi potesse provare due o tre quartisti alle spalle di un'unica punta eccetera io dicevo io mi aspetto che Inzaghi abbia già ragionato su questa opzione perché altrimenti la scelta se l'idea era no solo 3-5-2 solo due punte l'idea allora di chiudere con Arnautovic e Turam e con Arnautovic scusate e Sanchez era un'idea molto rischiosa quindi già di base io mi aspetto che l'Inter abbia lavorato e abbia previsto questa possibilità dopodiché emerge a questo punto a partire dalla notizia di sport un concetto che ogni tanto saltuariamente torna cioè il colpo alla Eriksen ovvero quel colpo che l'Inter può provare a fare a gennaio su un giocatore che va in scadenza a giugno per anticipare la concorrenza di quei club che magari a gennaio non sono convinti al 100% di spendere dei soldi su quel giocatore però magari a giugno invece potendolo ingaggiare a parametro zero potrebbero farlo e potrebbero anche offrire degli stipendi superiori che era un po' quello che si diceva quando l'Inter prese Eriksen sul tema Taremi quindi a questo punto mi viene da dire dal punto di vista tecnico è un giocatore fortissimo secondo me e dovesse davvero l'Inter prenderlo si metterebbe in una situazione tale per cui con un attacco così e un centrocampo così insomma ci sarebbero dei valori veramente molto importanti la domanda che mi pongo e che indirettamente pongo anche a voi e vi chiedo di farmi sapere nei commenti è vale la pena a livello di costi a questo punto puntare su un giocatore come Taremi a gennaio quindi dovendo anche spendere qualcosina di cartellino in aggiunta ad un ingaggio che non sarà elevatissimo ma non è di certo un ingaggio contenuto visto il profilo del giocatore oppure conviene incrociare le dita continuare così e sperare che Sanchez e Arnautovic non abbiano ulteriori problemi perché è evidente che è un po' una bilancia cioè Taremi acquistare Taremi ti appesantisce i costi ma allo stesso tempo ti arricchisce l'apporto tecnico e anche a livello banalmente numerico non acquistare Taremi non appesantisce i costi però ti lascia tutta la fine della stagione con l'incognita con il dubbio con la paura che Sanchez e Arnautovic si facciano ancora male e creino dei problemi la sintesi con cui provo a chiudere questo contenuto è questa più che un colpo alla Eriksen eventualmente quello che io forse posso aspettarmi è un colpo alla Klassen quindi un giocatore che si possa allungare il reparto che si possa essere numericamente diciamo un di più rispetto alle esigenze alle strette esigenze del 3-5-2 un giocatore che però in virtù di questo non possa costare non possa che costare pochissimo di cartellino e poco di ingaggio in alternativa sarei molto sorpreso ecco se l'Inter andasse su Taremi e lo portasse qui perché vorrebbe dire avere cinque attaccanti in un modulo che te ne richiede diciamo a stretto livello di numeri quattro sei centrocampisti il modulo ti chiede sei centrocampisti e ne hai sette inizia ad essere una rosa che non è che sia proprio sovrabbondante in senso lato perché alla fine ne hai uno in più per reparto però non è un'abitudine che l'Inter negli ultimi anni ci ha proposto anche per ragioni banalmente di costi quindi intanto volevo portarvi la notizia che arriva dalla Spagna su Taremi e riflettere con voi rispetto a quelle che sono le strade che si possono prendere a gennaio io accoglierei con piacere un nuovo attaccante perché anch'io come voi pur apprezzando tecnicamente Arnotovic e Sanchez sono un po' preoccupato sulla loro tenuta per tutta la stagione dall'altra parte non so se Taremi possa essere a tutti gli effetti la scelta giusta più ripeto per una questione di costi invece a giugno dovesse liberarsi a parametro zero e si dovesse riuscire a prendere per un ingaggio contenuto è vero che avrebbe 32 anni quindi non è che ci si può contare per chissà quanto però perché no tutto sommato è un giocatore che secondo me ancora nel calcio importante ci sta senza problemi è evidente che però nel caso dovrebbe venire al posto di uno dei due che già ci sono altrimenti appesanti resti a livello numerico ma anche a livello di carta d'identità con un terzo attaccante di riserva anche questo ben oltre i 30 anni fatemi sapere allora cosa ne pensate nei commenti in attesa quindi che l'Inter recuperi Arnautovic vediamo di continuare così perché poi la stagione adesso è partita anche bene ci siamo ripresi dopo il KO con il Sassuolo e adesso sabato vediamo contro il Bologna cosa ne sarà vi aspetto quindi nei commenti vi ricordo di cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti vi aspetto anche nel club di Passione Inter www.passioneinter.club se volete supportare il nostro progetto noi ve ne saremo infinitamente grati infine per chi mi segue in podcast come sempre lo trovo in descrizione chi mi segue su YouTube invece alla mia destra ti lascio un altro contenuto da recuperare ciao ciao